buongiorno a tutti e benvenuti al webinar scopri easy box pro uno strumento di lavoro rivoluzionario per l'occasione siamo in compagnia oggi di massimiliano renzi direttore commerciale mauro zangara coordinatore sales team e stefano flaccavenzo sales accounts per easy market vi diamo il benvenuto con un video a 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 che dovrebbe in qualche modo aiutarvi e aiutarci nel nostro lavoro quotidiano e soprattutto in merito a tutte quelle situazioni dove con le nuove normative in vigore del primo di luglio sono state regolarmente utilizzate con il pacchetto turistico. Quindi io lascio subito la parola a Mauro Zangara che è il coordinatore della rete commerciale di Simarket e a Stefano Flaccavento che è il sales account. a 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 perché è uno strumento che ha come primo obiettivo quello di dare maggiori garanzie all'agente di viaggio in che senso maggiori garanzie? Perché di fatti Easy Market fa un passaggio diciamo che nella sua storia è epocale perché come forse quasi tutti sapete Easy Market era nata nel 99 come primo consolidatore di pacchetti vacanze quindi di fatti intermediava pacchetti di altri tour operator oggi è un sempre un intermediario dove appunto distribuisce servizi quali hotel trasferimenti voli eccetera sempre però di altri sempre diciamo offerti da altri nostri fornitori oggi Easy Market con Easy Box Pro veste un nuovo ruolo che è quello appunto di organizzatore di fatti quello che cambia è appunto il ruolo che assume Easy Market nel momento in cui voi decidete di creare un pacchetto e di validarlo quindi renderlo un Easy Box Pro si tratta effettivamente di un'evoluzione perché diciamo che Easy Box è nato nel 2016 come strumento uno strumento all'interno della quale abbiamo preso spunto un po' dalle cartelline che vediamo nelle vostre agenzie giornalmente all'interno delle quali vedo che oggi tanti di voi inseriscono le pratiche inseriscono le conferme e quindi abbiamo pensato di creare una cartellina virtuale che in qualche modo potesse ricomprendere tutti i servizi che vengono acquistati appunto su Easy Market e una volta messi dentro questa cartellina i servizi passano diciamo sotto la la visione di Easy Market che diciamo si occupa di verificare che siano in regola tra virgolette quindi semplicemente facciamo un check che in qualche modo va ad aggiungere un ulteriore controllo su quello che è già il controllo che fa l'agente di viaggio per poi dare appunto una validazione e quindi offrire la propria organizzazione tecnica al pacchetto quindi diciamo che è effettivamente uno strumento che oggi è unico sul mercato unico perché? perché è uno strumento che vi permette di combinare insieme tutti i servizi che sono all'interno della nostra piattaforma quindi dagli hotel ai voli ai trasferimenti alle escursioni all'autonoleggio e vi permette di farlo senza alcuna limitazione nel prodotto perché di fatti voi continuate a scegliere i prodotti continuereete a scegliere i prodotti all'interno di tutta l'inventory quindi all'interno di tutta l'offerta di Easy Market quindi non vi sono limitazioni da questo punto di vista e per cui dicevo è un'evoluzione importante nata diciamo Easy Box come vi dicevo è nato nel 2016 e oggi si evolve appunto in Easy Box Pro dove diciamo la parola Pro sta in qualche modo vuole significare tante cose Professional perché comunque diciamo l'Easy Box viene creato da professionisti quindi da voi e da noi che insieme in qualche modo cooperiamo protezione perché effettivamente Easy Market diventa organizzatore tecnico per questo pacchetto quindi in qualche modo vi diamo un'ulteriore garanzia da questo punto di vista per cui ecco adesso vi invito ad ascoltare il collega Stefano che ci spiegherà in maniera operativamente come funziona come funziona questo strumento e alla fine diciamo della presentazione se avete qualche curiosità domande insomma qualsiasi dubbio siamo appunto disponibili per rispondervi passo la parola al collega Stefano Buongiorno Buongiorno Benvenuto a questo speciale webinar dedicato ad Easy Box Pro io cercherò di mostrarvi tutte le funzionalità di Easy Box senza fermarvi ma se vi sorge qualche dubbio o avete qualche domanda da fare potete tranquillamente scrivere qui in chat oppure inviarci una mail a commerciale chiocciola easymarket.travel allora adesso condividerò lo schermo così da farvi vedere un po' ok riuscite a vedere tutto? sì ok allora innanzitutto eh l'Easy Box è uno strumento che si trova all'interno del nostro sistema Revolution quindi faccio eh magari una panoramica eh di Revolution eh Revolution è comunque un sistema pensato e studiato per voi agenti di viaggio e eh allora in alto abbiamo praticamente una barra blu dove sulla sinistra sono presenti tutti i nostri prodotti quindi hotel voli autonoleggi attività e quotazioni gruppo e eh cliccando sull'R di Revolution invece eh ritorniamo ovunque voi siate comunque alla home page ehm del sistema. Eh ci sono anche ehm la possibilità di richiedere dei preventivi extra sistema quindi lo potete fare tranquillamente da qui. E credo che Stefano abbia perso la connessione. Riuscite anche a sentirmi? Chiediamo di condividere nuovamente la webcam. Eh no ma quella deve rimanere stessa. Sì eh ti chiediamo di condividere di nuovo la webcam. Ok. Allora dicevamo invece sulla destra abbiamo una campanellina dove potete ricevere eventuali notifiche eh l'easy box che andiamo ad approfondire adesso ehm tra poco anzi e eh l'archivio dove è possibile ritrovare tutte le vostre pratiche anche quelle in stato cancellato diviso per sezione eh le impostazioni dove è possibile impostare il vostro markup quindi il guadagno eh dell'agenzia ed infine ehm nella sezione dove vedete appunto il vostro idea di agenzia potete ehm verificare l'anagrafica agenzia o ehm eventualmente creare dei profili profili banconisti per ehm qualora vogliate lavorare ognuno con un profilo diverso e eh in basso invece abbiamo una barra grigia dove sulla sinistra eh potete ritrovare tutti i nostri contatti o i contatti del vostro sales e sulla destra la live chat dove invece è possibile richiederci una prima assistenza eh per qualsiasi cosa eh ed io e i colleghi del reparto commerciale saremo lieti di darvi assistenza. Allora adesso e quindi entriamo nel vivo di quello che appunto l'Easybox e ehm l'Easybox innanzitutto ehm è uno strumento che appunto esiste già dal 2016 ma eh il 12 novembre Easy Market ha lanciato sulla piattaforma questa importantissima novità che è appunto l'Easybox Pro è uno strumento che ci permetterà di essere allineati su quelle che sono le nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione e come molti di voi sapranno appunto dal primo luglio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 21 maggio e numero 62 in attuazione della direttiva dell'Unione Europea 2015 23 02 e questa nuova legge di fatto pone le agenzie di viaggio che operano in veste di organizzatore di fronte ehm ad un bivio se continuare a operare come tali o scaricare le responsabilità che ne derivano ad un terzo. Da qui la soluzione di Easy Market appunto per far fronte all'esigenza crescente degli agenti di viaggio che appunto Easy Box Pro. e cos'è Easy Box Pro? Nient'altro appunto se non l'evoluzione del dell'Easy Box già presente su Revolution, uno strumento attraverso il quale potete assemblare più servizi per fornire un preventivo completo ai vostri clienti, pubblicare un'offerta ad hoc nella vostra vetrina o creare un insieme di più servizi per un ponte o una particolare festività. e adesso rivediamo appunto il funzionamento. Si va ehm sulla scatoletta quindi sul logo della scatoletta con un ingranaggio che appunto è il logo del nostro Easy Box e ci sono due modi di operare. Potete farlo in maniera veloce quindi creare qui dare un un nome. Io vi consiglio di inserire destinazione cognome cliente e cliccare sul pussantino. Da quel momento eh il vostro Easy Box è già creato ma non avete fondamentalmente inserito i nominativi dei passeggeri che comunque potete inserire anche in un secondo momento. Eh oppure ehm creare appunto l'Easy Box. Eh ehm clicchiamo appunto su crea Easy Box. Diamo eh il nome a questo Easy Box. Ad esempio adesso facciamo eh metto una destinazione. Mettiamo ad esempio Parigi. Mettiamo il nome del referente. inseriamo il numero e eh eh qui possiamo appunto cliccare eh per iniziare a compilare la rooming. Quindi inseriamo ad esempio una camera eh vogliamo ad esempio fare per due adulti quindi inseriamo due adulti e in possiamo inserire appunto i nominativi. Allora adesso inseriamo i nominativi, le date di nascita. Questa è una cosa molto utile perché ehm durante il il preventivo poi eh il sistema precompilerà eh tutto in automatico quindi vi evita di riscrivere ehm insomma molte volte i vari nomi. Allora inseriamo l'altro pax. Quindi da questo momento abbiamo inserito i nomi, dato un nome al nostro Easy Box. Qui ci sono delle note addizionali che ehm non sono da considerarsi note di comunicazioni con il nostro personale ma eh delle note appunto per voi quindi per annotarvi ad esempio eh cliente vegano così in qualsiasi momento eh voi ehm rientrate nel all'interno dell'Easy Box e riuscite a vedere questa particolare nota. Clicchiamo su salva. Quindi da questo momento in poi il nostro Easy Box è stato creato e come potete vedere si genera anche un PNR. Quindi questo è il PNR del nostro Easy Box ma in questo momento ancora non stiamo lavorando all'interno dell'Easy Box. Per lavorare all'interno dell'Easy Box dobbiamo attivarlo. Quindi si va a cliccare su attiva. Come potete vedere assistiamo ad un cambiamento cromatico quindi in alto la barra non sarà più blu ma ehm sarà di questo colore verde. Questo ci indica che stiamo lavorando in questa particolare area di lavoro che è appunto l'Easy Box e eh sulla destra potete vedere comunque il nominativo dell'Easy Box ehm per il quale appunto state adesso lavorando. Allora adesso andiamo a fare un una ricerca quindi da questo momento in poi possiamo andare tranquillamente a selezionare i mh a cercare i nostri servizi. Quindi andiamo ad esempio in hotel. Possiamo fare una ricerca per destinazione per nome hotel o eh business travel quindi potete inserire ehm una destinazione un indirizzo un cap e stabilire un range eh eh entro la quale appunto il sistema deve ricercare e cliccare su cerca quindi in quel modo eh potete fare una ricerca diciamo un po' più mirata. Altrimenti andiamo su destinazione facciamo una ricerca semplice mettiamo Parigi. Qua abbiamo una sorta di primo filtro eh noi ad esempio selezioniamo Parigi, Francia così da avere un attimino meno risultati. Selezioniamo il range di date. Ne approfitto per eh ricordarvi che il nostro calendario è a scorrimento quindi eh possiamo cliccare sulla data di check in, scorrere e cliccare sulla data di check out. Quindi in questo modo va ad inserirci entrambi ehm entrambe le date. Come potete vedere abbiamo già una camera due adulti perché il sistema sa che stiamo ricercando appunto dentro l'easy box per due adulti. Possiamo selezionare anche delle delle stelle mh o un trattamento. Ad esempio selezioniamo hotel quattro stelle e clicchiamo su cerca. attendiamo qualche istante a Parigi ci sono tantissime strutture. Ecco qui. Allora eh innanzitutto in alto abbiamo delle ehm dei suggerimenti delle strutture più vendute e sulla sinistra del del motore 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 tele perdonatemi c'è eh il modifica ricerca qualora volete modificare qualcosina all'interno della ricerca. I filtri che potete raggiungere da qui o da questa barra dove potete appunto eh inserire eventuali filtri e la mappa. Allora scorrendo le varie offerte ehm le offerte sono ordinate in ordine crescente quindi dal prezzo più basso al prezzo più alto e andiamo a ricercare la nostra struttura. I prezzi in questo ehm momento sono già marcappati quindi ehm potete vedere eh se cliccate appunto passate il mouse sopra la nuvoletta quello che è il vostro netto lontano da quelli che sono insomma gli occhi indiscreti dei clienti. Quindi andiamo e ricerchiamo la nostra struttura. E ci sono due modi per inserire all'interno dell'easybox una una struttura. Ad esempio eh ci interessa questo ehm questo hotel qui e clicchiamo su aggiungi ad easybox. con il telefono. Sì. 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 Mi chiedo qualche secondo di pazienza. Scusatemi. è rimasto bloccato qua sì e corgo l'occasione per chiederti di condividerla alla webcam perché non hai avviato la condivisione scusate un attimo ok grazie 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 a tutti. 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 Allora... Grazie a tutti. E così però vediamo la tua applicazione. Quindi andiamo a selezionare a ricercare il nostro tel. È tutto bloccato. È tutto bloccato. In questo momento non si vede nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.